pensi un po' gli disse una sera sostengono che mi sia innamorata di lei lo dicono sempre di un uomo e di una donna che sono amici crede che ci possa essere amicizia fra uomo e donna e sono sicuro fu la sua replica grazie rispose la ragazza porgendogli la mano come potrei io che ho il doppio della sua età che sono brutta e ammalata essere innamorata di lei e poi sono anche fidanzata no naturalmente non era possibile che una donna vecchia e brutta potesse rimanere affascinata dal corpo giovane ben sviluppato e allenato di un ragazzo soprattutto se il giovane aveva mani piccole e paffute unghie ben curate piedi piccoli e gambe sottili con polpacci forti e conservava una carnagione fresca con i primi segni della barba ma la logica non è così ferrea quando il cuore è ferito che io poi potesse amare una donna trentenne alta e virile che aveva il diabete e l'idropisia era quasi assurdo dopo quella lezione prese lei il sopravento divenne materna questo commosse io quando poi la canzonarono per quella sua inclinazione si sentì imbarazzata e scacciò tutti i sentimenti materni cominciando a lavorare alla conversione di io dato che anche lei era pietista si incontravano in un circolo di conversazione francese e facevano lunghe passeggiate verso casa durante le quali parlavano in francese era più facile dire cose delicate in una lingua straniera per questo yuan cominciò a scrivere dei componimenti in francese che poi lei correggeva l'ammirazione del padre per quella ragazza diminuì l'uso del francese respingeva la matrigna che non lo capiva era venuta meno anche l'unica prerogativa del fratello maggiore il francese questo irritò il padre a tal punto che un giorno dissi a yuan che era un male educato a parlare in una lingua straniera di fronte a persone che non la comprendevano non riusciva a capire come la signorina x che pareva tanto educata potesse permettersi una tale indelicatezza ma l'educazione del cuore non era la stessa di quella dei libri in casa non la sopportavano più e così i due furono perseguitati inoltre la famiglia traslocò in una casa vicina e il rapporto divenne meno intenso i primi giorni dopo il trasloco yuan era distrutto non poteva vivere senza la compagnia quotidiana di lei non poteva vivere senza quell'appoggio che lo elevava dalla sua età e lo portava tra gli adulti andare a trovarla come un ridicolo amante no non lo poteva fare non restava altro che scrivere lettere si aprì così una corrispondenza che durò un anno la sorella della matrigna che idolatrava quella ragazza allegra intelligente consegnava le lettere in segreto la corrispondenza avveniva in francese perché in caso di confisca rimanesse segreta e anche perché sotto quella copertura si muovevano più facilmente di cosa trattavano le lettere di tutto di gesù della lotta contro il peccato della vita della morte dell'amore dell'amicizia del dubbio per quanto pietista la ragazza si accompagnava liberi pensatori e soffriva di dubbi dubbi su tutto yuan era a volte il suo maestro severo a volte il suo figlio punito qualche traduzione dei componimenti in francese può dare un'idea della confusione che albergava nei due la vita dell'uomo è una vita di sofferenza le giur de l'on sont il des jours de douleur 1864 la vita dell'uomo è una lotta dal principio alla fine noi tutti nasciamo a questa misera esistenza in circostanze piene di preoccupazioni e dolori l'infanzia ha già i suoi piccoli dolori e dispiaceri la gioventù ha le sue grandi tentazioni dalla vittoria su di esse dipende la vita intera in età adulta ci si preoccupa per la vita in sé e di adempiere i nostri doveri pure la vecchiaia infine alle sue spine e la sua debolezza cosa sono tutti i piaceri tutte le gioie che tanta gente ritiene i beni supremi belle illusioni la vita è solo una lotta continua contro le avversità e le disgrazie una lotta che non avrà fine con la morte consideriamo la cosa da un altro lato non c'è proprio nessun motivo di essere soddisfatti e contenti ho una casa genitori che si preoccupano del mio futuro vivo in condizioni abbastanza buone godo di buona salute non dovrei essere allora soddisfatto e contento certo eppure non lo sono osserva quel povero lavoratore che finito il lavoro quotidiano fa ritorno alla sua modesta capanna dove regna la povertà e felice e contento si rallegrerebbe per una sciocchezza che io disprezzo quanto ti invidio uomo fortunato possessore della vera felicità sono triste perché si scontento rispondi no affatto sono abbastanza soddisfatto del mio destino e non desidero nulla che cosa è allora ora lo so non sono soddisfatto di me stesso né del mio cuore pieno di cattiveria e di collera via da me cattive intenzioni io voglio con l'aiuto di dio cercare di essere felice e contento poiché si è felici solamente quando si è contenti di noi stessi del nostro cuore della nostra coscienza all'amica questa rassegnazione non piacque e cambiò l'ultimo punto in modo da lasciare viva l'insoddisfazione vi annotò sopra si è felici in primo luogo quando il cuore e la coscienza dicono che si è cercato e si è trovato l'unico buon medico che sa sanare tutte le ferite del cuore e quando si vuole sinceramente seguire il suo consiglio queste parole insieme ai lunghi colloqui portarono il giovane una rapida conversione a un volta faccia alla vera fede dell'amica e lo spinsero lo sfogo seguente in cui spiegava il suo concetto di fede e di azione non c'è felicità senza virtù non c'è virtù senza religione 1864 cos'è la felicità la maggior parte della gente osservare la nuova espressione nota del traduttore crede che la felicità consista nel possedere grandi ricchezze e tutti i beni del mondo per poter così soddisfare i propri desideri peccaminosi e le passioni altri che non hanno pretese tanto grandi vedono la felicità nel semplice star bene nella buona salute e nel sentirsi felici in seno alla famiglia altri ancora che non hanno neppure così elevate pretese di felicità terrena e che sono poveri che mangiano male pagando con il loro assiduo lavoro sono soddisfatti del loro destino e addirittura felici riescono perfino a pensare quanto sono felice in confronto a questi ricchi che non sono mai soddisfatti tuttavia sono felici per il fatto di essere soddisfatti no non esiste felicità senza virtù nessuno è felice tranne chi conduce una vita veramente felice bene ma c'è anche molta gente davvero virtuosa c'è gente che non affonda mai nei vizi che conduce una vita modesta che non offende nessuno che è disposta a perdonare che compie il suo dovere scrupolosamente e che è per giunta religiosa va in chiesa ogni domenica rispetto a dio le sue sante parole pur senza essere reinati attraverso lo spirito santo e allora non sono felici per il fatto di essere virtuosi no non c'è virtù senza vera religione questa gente di mondo virtuosa è in realtà peggiore dei più viziosi i primi si sono cullati nella certezza morale certitude morale si trovano migliori degli altri uomini e giusti davanti agli occhi dell'altissimo ma sono proprio questi farisei pieni di presunzione che credono di meritarsi la beatitudine eterna attraverso le loro azioni ma che sono le nostre azioni di fronte al dio santo peccati e nient'altro che peccati questa gente che si crede giusta incontra grandi difficoltà a convertirsi poiché non ritiene di aver bisogno di un mediatore dato che vuole conquistare il regno dei cieli solo attraverso le sue azioni un vecchio peccatore invece dopo essersi svegliato può sentirsi cattivo e aver bisogno di un salvatore la vera felicità consiste nell'essere in pace con dio nel proprio cuore con la mediazione di gesù cristo ma non è possibile sentirsi in pace se prima non riconosciamo di essere i più grandi peccatori e se poi non ci rifugiamo dal nostro salvatore per trovare in lui redenzione che folli siamo a respingere la felicità sappiamo tutti dove trovarla ma invece di conseguirla cerchiamo l'infelicità con la scusa di essere in cerca della felicità l'amica aggiunse in fondo molto ben scritto erano anche le sue idee o almeno frasi che aveva letto di tanto in tanto lo assillavano dei dubbi e allora io si esaminava fino in fondo alle viesce così scrisse su un argomento da lui scelto l'egoismo guida tutte le nostre azioni generalmente si dice quell'uomo è così buono e caritatevole verso il prossimo tutte le sue azioni sono buone e virtuoso e tutto ciò che fa è ispirato alla misericordia e all'amore per il giusto e il vero ebbene entra nel tuo cuore e cerca un po incontri un mendicante per strada la prima cosa che pensi è certamente questa come infelice quell'uomo voglio fare una buona azione aiutarla lo compiangi e gli dai un soldo ma poi ti prendi un altro pensiero o come è bello essere caritatevole misericordioso fa così bene al cuore aver dato l'elemosina un povero perché allora l'hai fatto era vero amore o misericordia il tuo caro io si leva allora nel tuo cuore e ti condanna l'hai fatto per il tuo io per tranquillizzare il tuo cuore per accontentare la tua coscienza un tempo avevo intenzione di farmi pastore davvero una buona intenzione ma che ragioni ne avevo servire il mio salvatore e lavorare per lui solo per amore nei suoi confronti no ero un vile e volevo rendere più leggeri il mio fardello e la sua croce ed evitare le grandi tentazioni che incontravo dappertutto avevo paura degli uomini ecco il motivo i tempi cambiano avevo capito che non avrei potuto condurre una vita da cristiano accanto a certi compagni ascoltando nel giorno dopo giorno i discorsi empi e così scelsi un'altra strada per poter essere più indipendente o almeno qui si interrompe il componimento non è neanche corretto avrebbe dovuto parlare delle nuove intenzioni di diventare sergente è possibile altri componimenti trattano del creatore e della natura e sembrano inconsapevolmente influenzati da rousseau di cui si dovevano leggere degli estratti e l'antologia di francese di staff racconta infatti di pastori e gli usignoli mai visti o sentiti esaminavano anche il loro rapporto e ci ragionavano su era amore o amicizia lei amava un altro uomo di cui non parlava quasi mai joan non guardava mai il suo corpo solo i suoi occhi che erano profondi ed espressivi non adorava in lei nemmeno la madre perché non desiderava posare il capo sulle sue ginocchia per quanto potesse essere infelice e per quanto desiderio avesse di altre donne aveva quasi terrore di sfiorarla non il terrore del desiderio ma quello del disgusto ballò con lei una volta ma non lo rifecce quando fuori tirava vento i vestiti della ragazza si alzavano lui guardava da un'altra parte era senza dubbio amicizia e l'animo di lei era sufficientemente virile e il suo corpo pure perché un'amicizia potesse nascere e durare i matrimoni spirituali possono perciò aver luogo solo fra gente più o meno assessuata e dove esistono si può sempre osservare qualcosa di anormale i matrimoni migliori cioè quelli che meglio adempiono al loro vero scopo sono proprio in malassortie antipatia diversità di opinioni odio disprezzo possono accompagnarsi al vero amore intelligenza e caratteri diversi generano la prole più ricca che eredita le inclinazioni di tutti e due la signora marie grub protagonista del romanzo psicologico a sfondo secentesco la signora marie grub dello scrittore danese jp jacobsen nota del traduttore che soffriva di troppa cultura cerca di proposito un marito spirituale rimane insoddisfatta fino a quando non trova un stalliere che le dà ciò che le occorre comprese le botte era il completamento di cui aveva bisogno intanto si avvicinava la confermazione era stata rinviata il più possibile per farlo restare con i bambini avrebbero usato anche quell'occasione per sottometterlo annunciando la sua decisione il padre comunicò anche la speranza che il corso gli sciogliesse il ghiaccio dal cuore quella sì che fu una ripetizione sul serio in primo luogo scendere di nuovo fra i bambini della classe inferiore filatori di tabacco e spazzacamini apprendisti di ogni genere io anche in passato ne provava pietà non li amava non poteva e non voleva avvicinarli crescendo se ne era allontanato per via dell'educazione così come si era allontanato dalla sua famiglia ridivendo uno scolaro gli veniva dato del tu e doveva imparare le cose a memoria alzarsi in piedi se interrogato essere sgridato assieme agli altri il prete un vicario era pietista a vederlo sembrava che avesse avuto qualche malattia contagiosa ovesse letto il dottor capf severo spietato insensibile senza una parola di clemenza o di consolazione collerico irascibile nervoso quel vanitoso figlio di contadini era il favorito di tutte le signore ma a forza di starlo sentire finiva per fare impressione era un predicatore allo zolfo ma le diceva i teatri e ogni divertimento dottrina e vita dovevano essere una cosa sola io anche cominciò a mettere la cosa in pratica per sé e per la sua amica dovevano cambiare vita niente balli niente teatro niente scherzi si mise a scrivere dei componimenti pietistici e si sedeva in un banco da solo per non dover sentir fribolezze accidenti sei proprio un pietista gli disse un giorno un compagno pubblicamente ma certo rispose io non voleva rinnegare il suo salvatore la scuola gli divenne insopportabile soffriva quel martirio e temeva le attrazioni del mondo sapendo quanto fosse attraente la vita si sentiva uomo e voleva lavorare mantenersi da sole sposarsi sposarsi è il suo sogno visto che non riusciva a immaginarsi nessun'altra forma di legame con una donna doveva essere legale e benedetto fra tutti quei sogni prende una decisione forse bizzarra ma che possedeva un fondamento un mestiere facile da imparare che potesse presto dargli da vivere un posto in cui non fosse l'ultimo ma nemmeno in alto una posizione umile e modesta che accoppiasse una vita attiva e salobre all'aria aperta con una posizione economica acquisita rapidamente l'attività all'aria aperta la ginnastica furono forse i motivi principali per cui scelse di diventare sotto ufficiale in un reggimento di cavalleria per sfuggire l'anno fatale della morte con cui il prete era tornato a terrorizzarlo forse fu l'uniforme o anche il cavallo chissà l'uomo è un animale strano ma se aveva rifiutato l'uniforme di cadetto l'amica lo sconsigliò per quanto potè gli dipinse i sergenti come i peggiori fra tutti gli esseri umani ma lui era forte e la fede in Gesù lo avrebbe mantenuto puro dal contagio anzi avrebbe fatto la predica su cristo e li avrebbe purificati tutti poi andò dal padre quello prese tutto come una fantasia e gli parlò degli imminenti esami di licenza che gli avrebbero spalancato il mondo intero e così la cosa fu momentaneamente messa da parte la matrigna aveva avuto un figlio joan l'odio per istinto era un concorrente al quale avrebbero dovuto cedere i fratelli minori ma l'amica e il pietismo avevano su di lui un potere così grande che il ragazzo si costrinse per avuto tortura ad amare il piccolo lo teneva in braccio e lo cullava lo avrai sicuramente fatto quando nessuno ti vedeva disse la matrigna in seguito quando lui portò il fatto a prova della sua buona volontà sì proprio quando nessuno lo vedeva visto che non voleva vantarsene o se ne era vergognato smise di farlo quando il sacrificio prima sincero gli divenne ripugnante la confermazione ebbe luogo dopo un addestramento a fondo individuale e collettivo nella semi oscurità del coro della chiesa e dopo una serie di prediche sulla passione colloqui interminabili su Gesù mortificazioni il massimo culto degli stati d'animo dopo l'ultimo esame io a mando al diavolo l'amica perché l'aveva vista a ridere il giorno stesso della confermazione tenne la predica il pastore consigli benevoli alla gioventù per la vita da parte di un uomo anziano illuminato fu un'omelia accorata e consolatoria niente tromba del giudizio universale nessuna punizione per peccati non commessi ma era un morto quello e gli amici gliene avevano già parlato male durante la predica gli sembrò che del balsamo cadesse sul suo cuore ferito e gli parve che il vecchio avesse ragione la stessa cerimonia all'altare che aveva atteso così a lungo non gli face nessun effetto l'organo straziò per delle ore o agnus dei miserere i ragazzi e le ragazze piangevano ed erano mezzo morti come se stessero assistendo a un'esecuzione capitale ioann era solo apatico non sapeva più che pensare i sacramenti li aveva visti troppo da vicino nella tenuta del sagrestano e la cosa era spinta all'assurdo era maturo per cadere e cadde gli regalarono un cilindro ed ereditò gli abiti smessi del fratello che erano larghi ed eleganti l'amico con il prince nez lo prese ora sotto la sua ala a dire la verità non lo aveva abbandonato nemmeno durante la fase pietistica aveva affrontato la faccenda alla leggera con benevolenza con indulgenza e con una certa ammirazione per il suo martirio e la fede salda che voleva mettere in atto ora intervenne lo portò a fare una passeggiata verso l'ora di pranzo gli mostro le bellezze della città gli disse i nomi degli attori che stavano all'angolo di regierinsgatan e quelli degli ufficiali che conducevano la parata ioann era ancora timido e mancava di fiducia in se stesso un giorno verso le 12 in procinto da andare a lezione di greco l'amico disse vieni con me al terremare a fare colazione no dobbiamo andare a lezione di greco al diavolo il greco oggi marinare era la prima volta ma erano abbastanza grandi per sostenere una lavata di capo sì ma io non ho soldi ma che centro offro io si offese entrarono nel ristorante un buon odore di bistecca gli venne incontro i camerieri presero i soprabiti appesero i cappelli il menù gridò l'amico con sicurezza dato che mangiava al ristorante da un paio d'anni vuoi la bistecca sì grazie aveva mangiato la bistecca non più di due volte in vita sua burro formaggio e acquavite e due mezze birre verso i bicchierini d'acquavite senza esitare no non so se posso non hai mai bevuto l'acquavite no allora prendila fa così bene la prese il corpo gli si riscaldò le lacrime gli salirono agli occhi e una leggera nebbia si alzò per la stanza ma con la nebbia divenne tutto più chiaro le forze crebbero il cervello si mise in moto le opinioni si rinnovarono si rischierò tutto il passato oscuro e quel pezzo di carne così succulento quello era cibo l'amico si mangiò anche un panino al formaggio joan disse cosa dirà il padrone del ristorante l'amico gli sorrisse paternamente mangia tanto costa lo stesso no oltre la bistecca un panino al formaggio che cattiva abitudine ma dio quanto era buono gli sembrò di non aver mai mangiato prima e poi la birra dobbiamo bere una mezza bottiglia per uno sei pazzo quello era mangiare per una volta non era affatto il vuoto godimento che aveva detto quell'uomo pallido no era un godimento solido sentire un sangue forte scorrere nelle alte nelle arterie semivuote che dovevano rinforzare i nervi nella lotta per la vita era un godimento sentire tornare la forza virile dissipata e i tendini allentati di una volontà quasi spezzata contrarsi di nuovo la speranza si risvegliò la nebbia divenne una nuvola rosa e l'amico lasciò che io and scrutasse nell'avvenire così come lo immaginava l'amicizia e la gioventù da dove vengono le illusioni giovanili sulla vita dalla forza si dice ma l'intelligenza che ha visto venire schiacciati tanti desideri di infanzia dovrebbe concludere che non è verosimile realizzarli tutti questi sogni sono allucinazioni malsane suscitati da istinti non soddisfatti che un giorno scompariranno e allora gli uomini diventeranno più ragionevoli e più felici io ando aveva imparato a esigere dalla vita che libertà dalla tirannia e pane gli era sufficiente non era aladino e non credeva nella felicità certo le forze le aveva ma non le sentiva l'amico le avrebbe scoperte ogni tanto dovresti uscire a sbronzarti con noi disse invece di startene chiuso in casa uscire costa e io non ho mai soldi procurati delle lezioni allora lezioni io credi che potrei trovare delle lezioni sei bravo non dovrebbe essere difficile bravo un riconoscimento o un'adulazione come la chiamavano i pietisti che trovo terreno fertile ma non conosco nessuno non ho relazioni parla col preside vedrai io ho fatto così johan osava appena credere alla felicità di guadagnare dei soldi ma quando sentiva che anche altri ne erano capaci e si paragonava a loro beh avevano fortuna quelli l'amico lo sollecitò presto ebbe delle lezioni e divenne istitutore di un collegio femminile divento più sicuro di sé le domeniche a casa lo chiamavano signor joan e i professori a scuola interpellavano la classe con un signori miei cominciò allora di sua iniziativa a riformare i suoi studi in primo luogo sospese il greco a lungo aveva chiesto al padre di lasciarlo ma in vano lo fece ora di sua iniziativa e il padre lo scoprì solo dopo che gli esami di maturità erano finiti da un pezzo poi sospese lo studio della matematica dopo essere venuto a sapere che un latinista aveva il diritto di essere esonerato da quella materia per di più cominciò a trascurare il latino l'avrebbe ripreso tutto un mese prima dell'esame con una ripetizione in blocco poi prese l'abitudine di leggere romanzi francesi tedeschi e inglesi durante le lezioni le interrogazioni di solito andavano per ordine e lui se ne stava col suo libro davanti fino a quando l'interrogazione non si avvicinava allora pensava al da farsi e si preparava in fretta le lingue e le scienze naturali divenne lo suo forte dare ripetizione a ragazzi di età inferiore fu una nuova terribile retrocessione ma ne valeva la pena ovviamente erano solo i ragazzi con poca volontà di apprendimento che usufruivano di un ripetitore per il suo cervello attivo fu un lavoro crudele doversi adattare a quello dei ragazzi erano impossibili non riuscivano a stare attenti penso che fossero ostinati la verità era che gli mancava la volontà di stare attenti quei ragazzi erano considerati stupidi a torto erano invece svegli ma i loro pensieri giravano intorno a fatti concreti reali e sembrava piuttosto che avessero scoperto l'assurdità delle materie di insegnamento molti di loro riuscirono benissimo nella vita e a molti di più sarebbe stato possibile se i genitori non li avessero costretti a violentare la propria natura e a continuare gli studi al collegio femminile faceva lezioni solo alle più piccole le grandi invece si muovevano liberamente per la stanza e gli mostravano le gambe quando stavano seduti al tavolo o sulle sedie io non li osservava ma non osava avvicinarsi cominciò a questo punto una nuova contesa con l'amica che aveva notato il suo mutato comportamento lo mise in guardia contro l'amico che lo lusingava e anche verso le ragazze giovani di cui joan parlava con un certo calore era gelosa si appellava a gesù ma joan si distraeva e finì per allontanarsi da lei conduceva ora una vita allegra e operosa la rivista e licoride all'andalusa uno dei due eleganti caffè dell'opera negli anni 1860 nota del traduttore di sera le serenate dato che si era messo a cantare in un quartetto il pance e una corte discreta alle cameriere del caffè si innamorò di una biondina dell'andalusa che dormiva dietro il banco avrebbe voluto salvarla metterla a pensione in una canonica farsi lui stesso pastore e sposarla ma l'amore finì presto quando una sera vide dei compagni toccarle il seno in una stanza appartata nel frattempo aveva messo da parte gesù sebbene continuasse ad avvertire un debole sottofondo d'ascesi e di devozione continuava a pregare per abitudine senza sperare però di essere esaudito aveva cercato a lungo la conoscenza che si sosteneva così facile da trovare se solo si fosse bussato alla porta della grazia e a dire la verità essere esaudito non gli stava neanche più tanto a cuore se si fosse aperta la porta e gesù in croce gli avesse gridato avanti non sarebbe stato contento la sua carne era troppo giovane e sana per aver voglia di essere crocifissa